Si è spento ieri all'età di 77 anni Umberto Guidugli, ex presidente della Banca Versiglia all'Unigiana Garfagnana, vittima anche egli del coronavirus. Guidugli, originario di Serravezza, era ricoverato all'ospedale Versiglia ed era stato tra i primi contagiati a Pietrasanta. A ricordarlo è Giuseppe Menchelli, vicepresidente della Banca Versiglia all'Unigiana Garfagnana, che da qualche anno ha messo radici anche nella provincia spezzina. Notaio e uomo di grandissima cultura, impegnato nel sociale e vicino al volontariato cattolico, rigoroso con se stesso e con gli altri. Umberto nel 2005, io sindaco di Sarzana, è lui presidente della Banca di Credito Cooperativo. Così lo ricorda Massimo Caleo che aggiunge, Sarzana deve essergli grata per la vicinanza alla nostra comunità, della quale sosteneva gli sforzi che l'hanno portata alla ribalta nazionale. Dall'opera all'antiquariato, alla scuola, all'associazionismo, la banca e il suo presidente Guidugli erano sempre presenti.